La raccontiamo agli operatori di Beer Attraction perché io provengo proprio da una birreria che non aveva un lavoro serale da pizzeria e l'abbiamo incrementato notevolmente proprio introducendo questo format di pizza, la scrocchiarella, che è una pizza che si mangia in compagnia servita su tavoli, sugli assi in legno, in più gusti, è sulla un po' della classica pizza, poi essendo così buonissima, avendo la possibilità di farla poi in vari cereali con accostamenti in menù diversi e specifici, questo è il posto più indicato per riuscire a fare pubblicità al nostro prodotto. Sono orgoglioso di poter presentare questa mia ricetta, una delle mie ricette che faccio nella birreria, quindi abbiamo fatto una base di ricotta di pecora con radicchio julienne, gorgonzola e parmigiano reggiano. Sono contento per dare testimonianza che è un prodotto che funziona, che ci ha dato tante soddisfazioni in sei anni e sicuramente ha stravolto completamente il nostro locale portando un afflusso di clienti importantissimo. Il nome Scrocchiarella è uscito quasi così per caso, da un gruppo d'amici che proprio per la caratteristica che è un prodotto croccante mentre si taglia, che scrocchia, allora da lì è nato Scrocchiarella.